Arriva un'istruttoria per valutare la futura società che potrà gestire acqua e rifiuti. L'ha annunciata questa mattina Giuseppe Sidoli, sindaco di Vernasca, ne ho eletto coordinatore piacentino dell'Assemblea locale di Attersir, formata dai 48 sindaci del territorio. Intendo soprattutto scegliere un metodo che sarà quello che ho detto nelle poche parole che ho pronunciato, di affrontare questi temi facendo adesso subito in tempi brevi un'istruttoria approfondita su una problematica molto complicata, mi hanno detto da quelle prime cose che ho capito e che quindi voglio approfondire insieme ai sindaci, per cui queste sono scelte che devono essere condivise dai sindaci. In provincia a febbraio era già stato firmato il protocollo relativo al progetto di fattibilità per la costituzione di una società capitale mista ai fini dello svolgimento dei servizi idrico integrato e di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale piacentino. Poi il progetto era stato stoppato con le elezioni comunali e i cambi di amministrazione. Nel momento in cui c'è un rinnovo delle cariche c'è anche la possibilità poi di andare a riprendere dei temi ed analizzarli partendo da una prospettiva diversa, per cui vedremo che sarà l'indirizzo che uscirà da questa Assemblea e poi cominceremo a lavorare insieme.